Un saluto ai nostri amici internauti e telespettatori. Oggi siamo in compagnia con Alex Zappalà della Fondazione Missio della CEI, in modo particolare segretario generale di Missio Giovani. Alex, stamattina sei stato anche nelle scuole di Rieti. Qual è la funzione specifica della Fondazione Missio della CEI, soprattutto il settore giovani? Missio Giovani si propone come un cammino, un percorso di formazione per i giovani, adolescenti e giovani che hanno voglia di aprire finestre sul mondo. Noi partiamo dal concetto che missione è qualcosa che ci riguarda a 360 gradi. Le geografie della missione non sono solo oltre confine, per cui in Africa, piuttosto che in America Latina, come in Asia. Missione è uno stile di vita missionaria, un modo di vivere il Vangelo e quindi si vive da sotto casa come fino agli estremi confini della Terra. Missio Giovani si preoccupa, nello specifico, di aiutare i giovani in Italia, adolescenti e giovani, a vivere questo aspetto, questa apertura missionaria. Apertura missionaria significa incontrare l'altro, incontrarlo sulle strade del mondo, perché sulla strada del mondo è il luogo in cui Gesù ha trascorso il 90% della sua missione, non stava mai in casa, se era in casa, era in casa ad altri. Sceglieva quindi la strada come luogo privilegiato per la missione. Ed è proprio su quella strada che vogliamo ritornare, è proprio la chiesa di strada la chiesa che piace di più ai giovani. Una chiesa poco istituzionale, una chiesa informale, una chiesa che incontra chiunque. Sulla strada puoi incontrare credenti, ma anche non credenti. Sulla strada puoi ritrovarti minoranza, non più una chiesa confinata in se stessa, ma una chiesa che si scommette, che si interroga e si lascia interrogare dal mondo. Per cui questo è un po' lo stile che Missio Giovani vuole avere ed è un po' l'esperienza, la proposta di cammino che fa ai giovani. Proviamo a vivere la strada attraverso incontri di formazione, attraverso anche esperienze di formazione missionaria. In agosto, per esempio, ogni anno portiamo per tre settimane 15-20 giovani da tutta Italia per vivere esperienze di frontiera, esperienze di chiesa di strada all'estero, ma non solo, perché abbiamo anche dei campi nazionali, proprio perché questo aspetto missionario si vive a 360 gradi. Per cui si parte da sotto casa, da se stessi, dalla propria famiglia e poi a step graduati si arriva fino agli estremi confini della Terra, come ci dice che era scritto la stessa. La domanda che mi viene è questa, ma non è un po' ormai con i tempi che corrono, con i mezzi di comunicazione, non è un po' fuori tempo questa cosa della missione, capisco quella sotto casa, sulla strada, ma quella all'estero, quella nei confronti dei popoli, dei paesi cosiddetti via di sviluppo, eccetera. Perché un giovane oggi dovrebbe sentire questa voglia, questa spinta di andare all'estero e di annunciare il Vangelo? Cioè oggi ci sono altri modi per annunciare il Vangelo, perfino nella foresta amazzonica. Certamente, certamente ci sono tanti modi per annunciare il Vangelo. Infatti il primo motivo per cui un giovane vuole partire è quello di incontrare l'altro, di toccare la vita dell'altro in qualche maniera, di fare esperienza di povertà. E tra i desideri di partenza c'è quello di dare una mano per sconfiggere la povertà. E' chiaro, sono anche sensazioni momentanee, sono le sensazioni primordiali che ti avvicinano all'altro. Quindi c'è anche una curiosità. L'annuncio del Vangelo arriva esattamente dopo. E come? Arriva quando scopri di essere stato evangelizzato da questi popoli. Vai lì per tre settimane credendo di poter fare qualcosa per gli altri e scopri invece che loro sono stati qualcuno per te. Magari non hanno fatto qualcosa per te, ma sono stati qualcuno per te. E questo è il valore aggiunto che prende questa esperienza. Quindi probabilmente tra le prime motivazioni dell'andare c'è la curiosità e il desiderio di incontrarsi con altri. Poi l'evangelizzazione come avviene? Io dico sempre ai miei ragazzi, la missione comincia sull'aereo di ritorno, quell'aereo che ti riporta in Italia. Lì vivrai l'esperienza di missione. Lì inizia la tua evangelizzazione se vuoi, sotto casa, perché sai è facile incontrare, abbracciare bambini in altre zone del mondo, ti fa sentire bello, è un aspetto romantico della missione. Però poi quando torni a casa, in quella quotidianità, torni al tuo lavoro, torni alla tua università, alla tua scuola, è lì che devi far vedere un po' quanto questa esperienza ti ha segnato, quanto questi poveri hanno lasciato qualcosa in te, questi impoveriti. Per cui entrare, lo dicevo anche stamattina in una scuola, è facile spogliarsi nudi per i poveri, è comodo, è bello, è la soluzione più immediata, ma la scommessa più grande per noi cristiani è vestire i panni dei poveri e guardare la vita dal loro punto di vista. E quelle tre settimane in giro per i paesi del sud del mondo servono proprio a questo, provare a guardare la vita da quel punto di vista, in modo che una volta rientrati in Italia le nostre scelte, il nostro modo di vivere, il nostro stile di vita sarà profondamente cambiato, non potrà più fare a meno di quei giorni vissuti altrove. Senti, una volta un alunno mi ha detto, dice, ma oggi con tutte queste associazioni, anche laiche che si preoccupano di portare gli aiuti ai poveri, eccetera, nelle terre, chiamiamoli di missione, forse sono la scelta migliore. In fondo loro dicono i missionari, nel passato studiamo nei libri di storia che spesso hanno, diciamo, cambiato le culture, nella migliore dell'ipotesi, in molti casi sono stati piuttosto maldestri nel cambiare la visione religiosa di questi popoli e molti dicono è stato un impoverimento anche di quelle culture. Se dovessi fare una scelta, per esempio, possono dire io preferirei fare una scelta in un'associazione laica. Che cosa possiamo rispondere a questi ragazzi? Non è stato facile per me trovare una mezza risposta, poi magari se ti interessa te la dico, ma penso che sia più interessante della tua. Beh, sai, io penso questa cosa, sono due cose diverse. La Chiesa non è una ONG, non è una ONG, la Chiesa ha uno specifico, anche quando si trova in terre di missione. Il primo motivo per cui sono lì è annunciare il Vangelo. Certamente il Vangelo passa, una volta mi disse un missionario, non si annuncia il Vangelo alle pance vuote. Bisogna riempire la pancia, bisogna fare promozione umana, per occuparsi di quelle che sono le esigenze primarie per la vita. Però i missionari e le missionarie sono lì per evangelizzare, per portare la buona notizia e per lasciarsi evangelizzare da quei popoli. Le associazioni, le ONG che vanno lì per scopi puramente umanitari, che ben vengano, anzi che si moltiplichino speriamo, perché così i missionari possano tornare a fare Vangelo e basta e tutta l'umanità si preoccupi dell'altra umanità. Ecco, questo sarebbe il grande ideale. Chi vuole fare solo esperienze di umanità, esperienze filantropiche, esperienze di solidarietà, lo può fare e che lo faccia attraverso queste realtà che si occupano di questo. È chiaro, con tutta la formazione del caso, io lo dico sempre, non si parte allo sbaraglio, non può essere solo l'emozione a guidare, a far fare i primi passi in un viaggio. Occorre formazione, occorre lavorare sulle proprie emotività, a capire i desideri di partenza. La filantropia non può essere l'unico motivo per andare. Ci deve essere anche un senso di giustizia, che vivo qui tanto lì. Quindi se questa filantropia non la vivo qui, se questa passione per la giustizia non la vivo qui, beh, non la troverò nemmeno lì, insomma, in qualche maniera. È qui la nostra palestra e dove iniziamo a improntare il nostro stile di vita. Quello diventa una tappa, diventa un'esperienza in più che mi fortifica. Però sarò qui poi chiamato a vivere queste esperienze di solidarietà. Non ci sono poveri di serie A e poveri di serie B, per cui in Africa ci sono i poveri un po' più sfortunati che io vado ad aiutare. Poi se quegli stessi africani del Senegal li trovo qui perché arrivati a Lampedusa, sbarcati con un viaggio della speranza e poi con loro divento duro. Beh, ma il lavoro non basta più a noi, nemmeno a loro. Allora c'è qualcosa che non funziona. La solidarietà non può avere bandiere, la solidarietà non ha colori, la solidarietà è per tutti, sempre e ovunque. Allora io dico ai ragazzi, viaggiamo per condividere, viaggiamo perché tornando io possa cambiare stile di vita e possa poi vivere la mia missionarietà nella mia città, nel mio paese, nella mia Italia, lì dove sarò chiamato a stare, a piantare le mie radici. Senti, in questo tuo peregrinare immagino per lo più per le scuole, no? Intanto ci sono dei giovani che sono interessati a questa, a questo tipo di proposta? Perché immagino che uno potrebbe pure dire quest'estate vorrei fare pure un'esperienza o no? Non si può dire. Sì, 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 sono tantissimi, sicuramente incuriositi. Quando finiamo l'incontro c'è sempre qualcuno, più d'uno che in una classe dice beh, io ho superato i 18 anni, quindi vorrei vivere un'esperienza del genere, però detto subito dopo un incontro può essere anche una reazione emotiva alla pesantezza di alcuni contenuti. Quei desideri poi vanno lavorati, vanno vissuti, c'è sempre. E questa è una cosa bella. La cosa che più mi rammarica ma che diventa anche un motivo del nostro girare nelle scuole, non andiamo un po' così tanto per girare, ma cerchiamo di dare continuità. Cioè il nostro desiderio è che il territorio, le diocesi, i centri missionari diocesani creino dei luoghi in cui questi giovani poi possono attingere. Perché un conto che passa un missionario di passaggio e poi non lo vedi più. Bello, entusiasmante, ma che continuità mi dà. Il centro missionario, la diocesi, il territorio, la scuola stessa, le parrocchie, le famiglie devono diventare quei luoghi in cui il giovane può continuare a far crescere in sé questo germe che lo porta ad appassionarsi per l'umanità dell'altro. E lì fare la giusta formazione e capire qual è la propria strada. Perché non tutti siamo chiamati a uscire e non è indispensabile che tutti escano. Ripeto, è uno stile piuttosto. Recuperiamo uno stile. L'obiezione che ti è sembrata un po' più difficile a cui rispondere, insomma, da affrontare, qual è stata? È sempre la stessa. È quel dire cosa andiamo a fare in Africa. La mia risposta è sempre quella. Non andiamo a fare nulla, andiamo a essere, che è qualcosa di diverso. Ci sono momenti in cui non puoi più fare nulla per l'altro, ma puoi essere qualcuno per l'altro. Questa cosa bella, romantica, spirituale, trova l'obiezione della razionalità di chi dice quella pancia resterà sempre vuota. Per cui partire in missione, evangelizzare, portare la buona notizia, ma senza anche una cesta piena, qualcosa che possa aiutare l'altro anche a crescere, è l'obiezione più forte. Non ha senso. Che senso ha? Il senso c'è, noi lo sappiamo, lo vediamo, perché questo Vangelo continua a far storia nella storia del mondo da duemila anni. Per cui il senso c'è. È difficile spiegarlo a dei giovani che hanno bisogno di concretezze, che hanno bisogno di una vita touch, che possono toccare un'esperienza che possono sentir proprio. Per cui l'unica maniera non è rispondere con le parole, ma è rispondere con una proposta. Vieni e seguimi. Vieni un po' a vedere e toccare questa realtà, farla tua e farla diventare ricchezza per il tuo cammino, per la tua vita. Senti, ci arriviamo verso, diciamo, alla conclusione. Mi interessa un aspetto però alla fine da affrontare. Ci sono ragazzi che sono stati attratti da questo tipo di esperienza pur non avendo, diciamo, una forte visione religiosa, nel senso che immagino che quelli che rispondono hanno anche chiarito dentro di sé alcune cose riguardo alla fede e alla religione. Ma ci può stare qualcuno che magari ti è capitato, forse vi è capitato, che è attratto allo stesso modo da questo tipo di partecipazione però non ha ancora chiarito almeno completamente o in maniera compiuta le sue riflessioni sulla religione. Certo. Sì, non fatico a dire che per me non è una discriminante l'essere credenti o no. Dico ai ragazzi, è chiaro saperlo prima, perché il viaggio che ti proponiamo è un viaggio di spiritualità, è un viaggio di stampo cristiano, se possiamo usare questa espressione, per cui certamente entrerai in una realtà che se non sei cristiano e se non sei disposto a vivere un'esperienza del genere faticheresti troppo a rimanere lì. Però detto questo, se per te va bene, per me non è una discriminante, farei un'esperienza di incontro tra umanità. Io ho girato però più l'Africa, per cui mi viene spesso la voglia di citare eventi vissuti, ma in Africa non troverai mai un uomo, una donna, nemmeno un bambino, che ti dica che Dio non esiste. Per loro è una spiritualità. È talmente ovvio. Mi è capitato, devo dire, qualche anno fa un giovane che in un villaggio si presentò e poi durante la messa non partecipava, la messa stava fuori. Allora gli abitanti del villaggio dissero, ma come mai tu non partecipi a messa? E lui rispose dicendo, perché io non credo in Dio? Quella gente pensò che lui non stesse bene di testa, forse non sta bene. Per loro era proprio impensabile che qualcuno potesse negare l'esistenza di Dio. Devo dirti che quel giovane da quell'esperienza si è interrogato profondamente. Io non l'ho più rivisto, non lo seguo da un po', non so che incontro ha fatto con Dio, però lo ha fatto. Questo ne sono sicuro. E qualche giorno, chissà se è già successo, quell'interrogativo tornerà. E tu, e adesso, e ora povero uomo, dice il titolo di un libro di Fallata, e ora povero uomo, arriverà quel momento. Insomma... Beh, mi sembra molto interessante, anche si potrebbe scavare ancora un po' in questo ambito, diciamo così ricco. L'ultima propria domanda. La diversità di cultura con queste popolazioni, per loro, dico per le popolazioni che noi a volte andiamo, spesso insomma andiamo a visitare, diciamo incide nel loro modo di recepire il messaggio, cioè il fatto che loro si accorgono che vengono persone di solito da altre culture, pur avendo anche loro oggi questi mezzi di comunicazione, però incide nel loro modo di recepire la cosa, cioè si sentono, come poteva essere molto di più un tempo nel passato, si sentono, sentono che entra, diciamo, un corpo estraneo nella loro cultura, anche se il Vangelo in sé va bene per tutte le culture, e questo ne sono sicuro pure io, però sentono che c'è un modo di una cultura diversa di presentare questo Vangelo. Certamente, ma questa cosa hanno dovuto impararla anche i missionari, in qualche maniera, perché come dicevi prima, c'è stato probabilmente all'inizio, nei primi secoli, insomma, un colonialismo religioso anche, non dobbiamo avere paura di dire queste cose, quindi da una parte si piantava il bastone con la bandiera dello Stato che colonizzava e dall'altra parte c'era anche la croce, segno di una cristianità che arrivava e si imponeva con forza queste culture. Devo dirti che il cristianesimo comunque nei secoli in cui ha avuto modo di esprimersi in casa di questi popoli ha trovato una propria collocazione, si è assolutamente plasmato alla realtà. I riti, per esempio, dei sacramenti che viviamo noi in altre terre hanno assunto degli aspetti e delle modalità tipiche e conformi a quel modo di celebrare la vita. Per cui è un Vangelo che si è inculturato senza perdere smalto profetico, è chiaro, la chiesa africana probabilmente fatica un po' rispetto agli altri perché alcune tradizioni di origine animista non vengono meno e non è detto che debbano venire meno, però certamente davanti a un Vangelo che ti dice di amare a tutti i costi la vendetta non trova più spazio e quindi in quelle culture in cui la vendetta è sinonimo di virilità, è sinonimo di mascolinità, di potere, il Vangelo sbatte, ma come sbatte anche in Occidente davanti a questi concetti, quindi fa un po' più fatica a entrare ma è la stessa fatica che fa in Occidente. Non è più un corpo estraneo certamente, non è più la religione dei bianchi, era stata la religione dei bianchi per tanti anni, adesso quel Gesù si è manifestato loro quando entri nelle chiese africane e trovi nei dipinti il Gesù il Gesù nero, non è più il Gesù bianco biondo che vedevi nei villaggi africani e faceva un po' ridere, adesso è un Gesù nero, è il loro Cristo, è il loro unto di Dio, per cui adesso ecco si sta camminando. Ringraziamo il nostro ospite Alex Zappalà del servizio Giovani della Fondazione Missio della CEI e ci auguriamo che molti si sentano dentro di sé la spinta anche ad approfondire questo aspetto della vita cristiana che è un aspetto essenziale sia nella prossimità, nei luoghi in cui viviamo, sia in zone lontane in cui si va a portare un aiuto però con la coloritura specifica cristiana. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie a voi.